Il sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero, potenzialità e opportunità di lavoro. L'Università d'Annunzio ha incontrato la Camera di Commercio Italia-Guatemala. L'evento, svoltosi nell'aula multimediale del rettorato nel campus di Chieti, si inserisce nelle iniziative del placement, cioè del servizio dedicato all'orientamento al lavoro per gli studenti e laureandi. La missione in Italia, in particolare in Abruzzo dei Vertici della Camera di Commercio Italia-Guatemala, rappresenta dunque un'occasione per far conoscere a laureandi e neolaureati le attività delle Camere di Commercio italiane nel mondo, le possibilità occupazionali che esse offrono, le possibili sinergie tra il mondo universitario e il sistema camerale. L'incontro è stato aperto dai saluti del rettore Sergio Caputi e del direttore generale Giovanni Cucullo, il professor Mario Luigi Rainone. L'evento di oggi si inserisce nelle iniziative del placement, cioè del servizio che è dedicato all'orientamento al lavoro per i nostri studenti e per i nostri laureandi. In particolare abbiamo approfittato della presenza dei vertici della Camera di Commercio Italia-Guatemala in Italia per invitarli e per venirsi a raccontare. Perché il sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero è un sistema che rappresenta un volano importante per l'economia, soprattutto delle piccole e medie aziende. Oggi sarà l'occasione anche per confrontarci insieme ai colleghi dei dipartimenti di area economica anche sulle nostre offerte formative, in particolare quelle che l'annunzio offre nell'ambito dell'area economica per i nostri studenti.